Il bilancio di queste prime giornate del campionato è ripartito? Mi sembra positivo, mi sembra che stia crescendo il campionato. Ieri è stata una bellissima giornata di gol, tantissimi gol. Le ultime due o tre partite hanno dimostrato che il campionato sta crescendo. Quindi man mano che si riprende il ritmo, le misure, le distanze giuste, il calcio migliora anche tecnicamente. Manca ancora quel piccolo tassello che io credo sia indispensabile nel mondo del calcio, che è la partecipazione dei tifosi all'interno dello stadio. Spero, mi auguro che questa epidemia ci consenta in tempi rapidi, consenta a noi ma soprattutto agli scienziati di poter aprire gli stadi in modo da poter vivere al meglio questo spettacolo e queste gare che stanno ancora una volta catturando l'attenzione di tanti tifosi dimostrando che la passione degli italiani è ancora molto viva per il calcio italiano. Quando crede possa riaprirsi? Quando gli scienziati ci daranno il via. Noi siamo pronti. Non le hanno dato più? No, assolutamente. Su questo non abbiamo assolutamente nessun riferimento.